Ci troviamo in una cantina di esperia, esperia superiore, una delle più caratteristiche di questa zona. In tempi antichi, 40 anni fa sicuramente, anche meno, veniva portata l'uva con le bigonce e con gli asini e l'uva veniva portata qui in cantina, veniva pigiata con questa macina, oppure si faceva con i piedi, nei tini, ovviamente non è rimasto nulla. Dopodiché, questo vino che veniva pigiata, veniva lasciata nei pini per circa una settimana, dopodiché veniva messa nel torchio, che possiamo vedere qui, lì in fronte c'è il torchio, e veniva raccolto il vino che ne usciva. Poi da qui, il vino veniva mandato giù attraverso un tubo. Qua sopra avevano messi i tini con l'uva che stava a macerare, diciamo, non so se si dice a macerare o meno. A macinare, no, a macinare è questo, a macinare è questo, veniva lasciato nei tini, veniva lasciato nei tini, veniva lasciato nei tini, veniva lasciato, posato, veniva evaporato, e poi si filtrava il mosto, veniva filtrato con un tubo, andava giù nel sotterraneo, dove è più fresco, dove tutti sono le botti, è più fresco, è più fresco, è un sotterraneo, e come ho detto prima, dopo che il mosto era stato tolto, il restante veniva picciato con il torchio. Poi, dunque, no, invece, precedentemente possiamo dire, la raccolta veniva fatta, ecco, in queste colline, se ci affacciamo, sicuramente possiamo vedere, ma è da qui si vede poco, più che altro Uliveti sono qua. Qui sono Uliveti, sulla sinistra c'è una zona che si chiama Vallepiana, e dove lì in genere ci sono la maggior parte dei vigneti, e anche i nostri c'erano, adesso non più. Vedo esposti molti, molti ceri, non è un fatto religioso assolutamente, invece era per mancanza di luce. Questa, per adesso, è per abbellimento, però comunque non c'era certamente la corrente, quindi... Non c'era la corrente, di conseguenza avevamo bisogno di feri, candele, adesso sono feri, prima proprio candele. Dunque, e va bene, ecco... Vi faccio vedere, se vuole, anche una cisterna, una vestita cisterna, prima mancava l'acqua. Grazie.